incontrando le nostre comunità in occasione dell'ultimo saluto a tanti nostri sacerdoti ho ascoltato il grido di dolore di tante famiglie e di tante persone segnate dalla pandemia tenendo conto che in questo momento molti anziani hanno dovuto rinunciare al loro servizio di volontariato rivolgo a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni un forte appello a mettere a disposizione il proprio tempo per servizi all'interno della Caritas e di altre strutture per far fronte a tanta sofferenza ho istituito un numero telefonico a cui potete rivolgervi e dove riceverete indicazioni per la valorizzazione della vostra disponibilità sicuro della vostra risposta fin d'ora vi dico grazie